Quando noi affrontiamo il problema della chirurgia dell'avampiede, dell'alluce valgo, ci chiediamo poi quali devono essere i risultati, quali devono essere il risultato finale della chirurgia, quali devono essere gli esiti. Ora, a questa signora che è stata operata per alluce valgo, ma è tornato praticamente valgo, le dita ognuna va per conto suo, c'è una metatarsalgia. Ma in una situazione del genere, qual è stato l'interesse di questa signora di non avere delle normali e tranquille, serene incisioni chirurgiche, magari ridotte, ridotte alla esostosi della testa del metatarsale, delle piccole incisioni e di non avere incisioni, avere i cosiddetti buchini, quindi non si vedono incisioni, ma l'alluce è tornato com'era, è tornato com'era prima, peggio di prima, le dita peggio, dice la signora. Le dita ognuno va per conto suo, adesso sarà veramente un problema rimettere a posto, perché le articolazioni sono tutte disassiate, tutte scombinate, tutte sublussate, quindi qual è stato l'interesse di questa signora? Questa signora è stata messa in un mucchio un giorno, è passata nel tritacarne, e questo è il risultato. Quindi qual è stato il suo interesse di non avere una piccola incisione chirurgica e avere tutto questo? Non so se questa signora, lei ha avuto un interesse, è contenta di questo risultato? Non è contenta. Va bene, cerchiamo di fare qualcosa per mettere a posto questa signora che è un disastro. Grazie a tutti.